Lo hanno picchiato e le loro intenzioni forse erano quelle di ucciderlo. Si tratta di Raimondo Caputo, il 43enne accusato di aver violentato e ucciso la piccola fortuna Loffredo di sei anni al Parco Verde di Caevano il 24 giugno di due anni fa. L'uomo è stato aggredito da altri detenuti nella cella in cui si trovava. Il 43enne era recluso nel reparto che accoglie i sex offender, persone che hanno commesso reati a sfondo sessuale e alcuni di loro l'hanno così aggredito prendendolo a calci e pugni e solo il pronto intervento degli agenti penitenziari ha evitato il peggio. Il 43enne è stato rinchiuso in una cella da solo. Intanto, a pochi giorni dall'arresto, il procuratore del Tribunale di Napoli Nord, Francesco Greco, sottolinea che c'è una sorta di confessione implicita. L'indagato viene intercettato mentre si preoccupa che sul corpo di fortuna possono essere trovate tracce del suo sudore. Questa indagine è emerso uno spaccato di un'infanzia, soprattutto nei quartieri periferici di Napoli, di un'infanzia abbandonata, di un'infanzia che non ha possibilità di avere un sviluppo psicofisico adeguato. La difficoltà dell'indagine, lo dicevo prima in conferenza, è la difficoltà di un clima omertoso, di un clima che non è solo mancanza di collaborazione nei confronti degli inquirenti, ma anche di inquinamento della prova. E questo poi ha determinato a un certo momento la necessità di adottare dei provvedimenti radicali, anche da parte del Tribunale per i minori, affinché la verità, almeno quella giudiziaria, quella che noi riteniamo secondo la nostra ipotesi accusatoria, potesse emergere. I psicologi ci dicono questo, che i bambini sono adesso persone diverse. L'avvocato della famiglia della piccola vittima, Angelo Pisani, non esclude che l'inchiesta possa riservare altre colpi di scena. La giustizia non deve avere alcuna pietà. Il processo è ancora lungo, è stato individuato uno dei responsabili di questa tragedia senza precedenti, dove le mittime sono tanti giovani, tanti bambini. Sono state confermate anche le ipotesi delle indagini difensive, dove dal primo momento avevamo indicato come luogo atroce della tragedia appunto il pianerottolo, sovrastante l'appartamento di Fortuna. I magistrati hanno fatto un ottimo lavoro e noi speriamo che la giustizia dia almeno soddisfazione a questa famiglia, che ha pagato con un grande sacrificio alla morte di questa bambina e soprattutto che questo sacrificio di Fortuna sia un monito, un esempio e un impegno per tutti a salvare tanti altri bambini che, come emerso nel corso delle indagini, sono vittime di violenze assurde. La mamma quando ha saputo che avevano fermato il presunto autore dell'assassino della figlia, come ha reagito? Ma la mamma mi ha detto testualmente, io l'ho sempre saputo, le mamme le sentono queste cose, del resto insieme proprio ai familiari di Fortuna, ai nonni, allo stesso papà di Fortuna che era in galera in quel periodo, avevamo il sospetto che appunto i colpevoli fossero nel palazzo e sappiamo che chi ha abusato ripetutamente di Fortuna come di tanti altri bambini è gente che frequenta quei territori che purtroppo vive nel degrado e nell'ignoranza massima.